Halloween deriva dalla festività celtica di Samhain, che consacrava la fine della festa del raccolto. Era celebrata per scacciare le paure. I Celti credevano che la notte del 31 ottobre il confine che separa il regno dei morti da quello dei vivi scomparisse e che i morti potessero tornare a camminare tra i vivi. Per questo la gente si traveste, per spaventare i fantasmi. Trick or Treat, dolcetto scherzetto, è la formula di rito con cui i bambini si annunciano alla porta dei vicini reclamando caramelle. Nella festa delle origini gli abitanti dei villaggi celti indossavano pelli di animali per simboleggiare gli spiriti, ricevendone in cambio cibo e vino. Con la diffusione del culto cristiano dei morti, il 2 novembre, il cibo diventa offerta ai mendicanti che in cambio promettono di pregare per i cari estenti. In seguito Halloween si diffonde negli Stati Uniti d'America, ridefinendo ancora una volta il senso di questa antica festa pagana. Le anime più oscure non sono quelle che scelgono di dimorare nell'inferno dell'abisso, ma quelle che scelgono di liberarsi dall'abisso e si aggirano silenziosamente tra noi. I morti girano liberamente ad Halloween. Questo l'abbiamo sempre sopporto. Sono Maria Teresa Mirelli. Benvenuti nel nostro speciale Halloween. È la notte di Halloween ed è giusto raccontarvi alcune storie dell'orrore, realmente accadute. Nel 2012 una bimba di 9 anni della Pennsylvania è morta uccisa da un parente che le ha sparato credendone a una puzzola. La bimba indossava un costume bianco e nero. Nel 1974 Ronald Clark O'Brien avvelenò il figlioletto di 8 anni, mettendo cianuro nelle sue caramelle e in quelle della figlia. Il tutto per riscattare il premio dell'assicurazione sulla vita. È stato giustiziato nel 1984. Nel 1992 Yoshiro Hattori, uno studente arrivato in Louisiana con un programma di scambi studenteschi, è stato colpito a morte da un uomo che lo credeva un ladro. Ma il ragazzo stava solo cercando la casa dove si svolgeva la festa a cui era stato invitato. Nel 1998 Carl Jackson, 21 anni, accompagna la sua ragazza a prendere il figlioletto che era andato ad una festa per bambini. Mentre aspettava in macchina, alcuni ragazzini hanno cominciato a colpirlo con delle uova. Dopo aver detto loro di smetterla, uno dei ragazzini estrae la pistola e spara, uccidendolo sul colpo. Nel 2004 Adriane Insonia, Leslie Ann Mazzara, Lauren Meanza, tre studentesse di Napa Valley in California, trascorsero la serata a fare dolcetto scherzetto. Dopo essere andate a dormire, nel cuore della notte, Lauren viene svegliata dall'agghiacciante grido di Adriane, che viene trovata moribonda e trafitta da diverse coltellate. Accanto a lei, anche Leslie Ann stava morendo. Ad ucciderle, era stato un amico del fidanzato di Adriane, geloso dell'amicizia tra le due ragazze. Sono stretto assorvegliato perché è fortemente sospettato dei brutali omicidi. Il massacro di questo terribile Halloween insanguinato è stato definito dalla polizia in stile Manson per la sua ferocia, ed è più agghiacciante di qualsiasi film dell'orrore girato a Hollywood. Il corpo è stato trovato riverso in una pozza di sangue lungo il corridoio del piano superiore. Sul suo cadavere ci sono i segni di ben 17 coltellate. Nel prossimo collegamento fornirò altri dettagli su questa tragedia. Lo sai che giorno è oggi? È la giornata meno adatta per certe stronzate, te ne rendi conto sì o no? E tu che fai? Te ne vai tranquillamente in giro! Voleva spaventare la sua sorellina, fingendo di impiccarsi ad un albero in uno scherzo di Halloween un po' anticipato, invece Jordan Morland, sedicenne del Kentucky, è morto asfissiato da quel cappio a cui si era appeso per scherzo, sotto gli occhi terrorizzati della bambina. La tragica fine di Jordan, purtroppo, non è la sola. Le cronache degli ultimi anni sono pieni di innocenti scherzi finiti in dramma. Imprudenze fatali, spesso compiute senza pensare troppo alle conseguenze. Nel 2001, a morire nello stesso identico modo, fu il quattordicenne Caleb Reb, che si era appeso ad un carro di fieno pronto per la sfilata notturna. Molti passanti lo videro, mentre cercava freneticamente di liberarsi dalla corda che gli stringeva la gola, ma tutti pensarono ad uno scherzo. Quando finalmente qualcuno ha realizzato che il ragazzino era in pericolo, Caleb era già morto. Sì. 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 Io vorrei sapere di chi diavolo è stata l'idea di farci venire qui nel cuore di una notte orrenda come questo. Larry, tu ti preoccupi troppo. E tu ti preoccupi troppo poco. La parola witch, strega in italiano, deriva dall'inglese antico e significa donna saggia. La strega è simbolo di Halloween perché la leggenda vuole che proprio la notte di Halloween le streghe compiano i loro raduni. Un'antica tradizione scozzese sosteneva che una ragazza avrebbe visto il volto del suo futuro marito se avesse steso delle lenzuola bagnate davanti ad un fuoco la notte di Halloween. Secondo la tradizione, se la notte di Halloween si indossano i vestiti al rovescio e si cammina all'indietro, si vedrà una strega. Chi non ricorda il processo alle streghe di Salem si svolse nel 1692 nel suo omonimo villaggio. In precedenza già 13 persone erano già state giustiziate nel New England per lo stesso reato, quello di stregoneria ovviamente, nel corso di una caccia alle streghe durata dal 1647 al 1688. Ma la nuova caccia alle streghe a Salem e il processo del 1692 inaugurarono la maggior serie di accuse, incriminazioni, processi ed esecuzioni capitali, ma inflitte nelle colonie inglesi nordamericane per il reato di stregoneria. La maledizione dice che le streghe torneranno per possedere l'anima delle donne di Salem e l'eletta partorirà colui che erediterà la terra, il figlio di Satana. Al termine del processo furono giustiziate 19 persone, 55 fra uomini e donne furono torturati per aver reso falsa testimonianza, 150 sospettati furono imprigionati e altre 200 persone furono accusate di stregoneria. Le incriminazioni per stregoneria dilagarono in pochi mesi nelle varie città circostanti. I processi ebbero inizi ad aprile e terminarono in novembre, quando la protesta di alcuni dei religiosi più influenti del Massachusetts spinse il governatore a sospendere i lavori del tribunale. L'anno successivo, un'apposita corte speciale esaminò i casi rimasti pendenti, ponendo fine alla questione. Benvenuta! L'anno successivo, un'apposita corte speciale, un'apposita corte speciale, L'anno successivo, un'apposita corte speciale, un'apposita corte speciale, un'apposita corte speciale, L'anno successivo, un'apposita importanza corte speciale, montaclista corte now avanti之anti, ponendo fine all firedstein Wonderland. Un'apposita corte speciale, un'apposita corte speciale, un'apposita corte speciale, un'apposita rapidippecent preptonit, ponendo fine alla EnfinarchyILA! Grazie a tutti 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 Dagli studi di Good Things Records Alla prossima da Maria Teresa Mirelli Auguri per Halloween